Ciao a tutti amici, sono io, Yulia War, e oggi sono qui per vedere insieme a voi i Moochies Surprise. Allora, come dice qui sotto, sono appunto degli animaletti gommosi, squishy e morbidosi. Come sapete io ho un debole per gli animaletti morbidi morbidi, quindi non vedo l'ora di scoprire i personaggi. La particolarità di questi Moochies è che la confezione, come vedete, è a forma di cartoncino del latte. Ogni cartoncino contiene due Moochies, una stanza e un arredamento. Ok, abbassiamo, ecco, qui come potete notare ci mostra tutti e 48 i Moochies da collezionare. Eccoli qui, e tra l'altro ci sono anche alcuni rari Glow in the Dark, che sono quelli che presentano la lampadina qui sopra, vedete. Speriamo di trovarne qualcuno. Come vedete, i cartoncini del latte sono di quattro colori, verde, giallo, blu, blu o azzurro, e rosa. Questo perché ogni cartoncino contiene una stanza e in base al colore è presente una stanza diversa. Quindi comprando questi quattro cartoncini, tutti e quattro di colori diversi, si potrà creare una casetta Moochies, come mostra appunto qui. Ma comunque lo vedremo noi stessi. Ovviamente poi è presente l'arredamento in base alla stanza che si sceglie. Ok, allora io direi di iniziare subito. Mettiamo la scatola qui e iniziamo. Allora io direi di tenerla così. E partiamo dal primo cartoncino, che come vedete è verde. Ah, e in questo caso contiene cucina, quindi tutti i cartoncini verdi conterranno la cucina. Vabbè dai, io direi di aprire la confezione, sperando di non distruggerla perché è troppo carina. Quindi apriamola da sotto. Ecco qui. Ok. Ok, allora. Questa è appunto una checklist dove mostra i vari arredamenti e tutti e 48 i Moochies. Ecco qui. E vediamo. Ok, allora questa è la cucina. Come vedete c'è il frigo, varie mensole, molto carina. Mentre, come arredamento, abbiamo trovato questo. Oddio, che carina. Ci sono i fornelli. E poi questo che penso sia la lavastoviglia, visto che ci sono i piatti. E adesso direi di vedere i nostri Moochies. Ok, questi sono i due Moochies che abbiamo trovato. e sono appunto questo unicorno verde. Vediamo. Oh, no, no. Sto scherzando. Pensavo fosse quello Glow in the Dark, ma in realtà non lo è, visto che è appunto questo unicorno. Dai, però è troppo tenero. E poi abbiamo trovato questo orsacchiotto. Abbastanza lungo, devo dire. Però molto tenero. Tra l'altro, guardate, si allungano. Poi sono super morbidi. Oh, che carini. E tra l'altro si possono anche attaccare alle superfici lisce. Perché presentano una ventosa. Ecco un esempio. Quindi li possiamo, volendo, anche attaccare ai vetri, eccetera. Ok, mettiamoli qui. E direi di passare all'altro cartone, quindi quello giallo, che contiene il soggiorno. Oh, guardate quanto è carino il soggiorno. Tra l'altro c'è anche il tavolo dove poter mangiare. E abbiamo trovato un piccolo mobiletto con dei cassettini che si possono anche aprire. E una lampada. Quindi la possiamo mettere. La mettiamo qui, dai. Eccolo qui. Dopodiché lo mettiamo così. Ecco, come vedete già si sta formando la nostra bellissima casetta. E qui abbiamo i due mucis. Ok, adesso vedremo i nostri mucis. Ok, abbiamo trovato questa tigre. Guardate quanto è carina. Tra l'altro ha una faccia un po' mezza tormentata. E poi questo, che penso sia un... Un uccellino. Non so, però è ciccioso. Ed è davvero carinissimo. Poi tra l'altro sono super morbidi. Comunque direi di vedere quelli glow in the dark alla fine. Quindi dopo aver aperto tutti i cartoncini, vedremo quali sono effettivamente glow in the dark. Passiamo adesso al cartoncino blu che contiene la camera da letto. Ok, questa è la camera da letto. E abbiamo trovato come arredamento l'armadio. Quindi lo possiamo mettere qui. Ecco, anche perché c'è lo spazio libero. Quindi spostiamo leggermente la nostra camera. C'è la nostra casa, che ormai lo è per tre quarti. E vediamo i nostri mucis. Eccoli qui, che carini. Allora abbiamo trovato un altro unicorno, che però in questo caso è bianco. E secondo me è molto più carino bianco rispetto a quello di prima. E poi abbiamo trovato un orsetto. Nello stesso orsetto, solo che è di questo colore particolare. Vedete questo azzurrino. Probabilmente questo sarà uno glow in the dark. Ok, e apriamo anche il cartoncino rosa. Per concludere la nostra casetta. Infatti questo contiene il bagno. Ok, questo è il bagno. E tra l'altro c'è anche la lavatrice. Che non penso si possa aprire in qualche modo. No, penso di no. E questi sono i mucis che abbiamo trovato. Che come vedete sono questa medusa arancione. Molto molto carina. E poi questo. Allora, secondo me, questo è lo stesso personaggio. Non so se avete mai visto Phineas e Ferb. Io lo adoravo quando ero piccola. E questo secondo me è lo stesso animale di Perry. Che sarebbe Perry l'oritorinco. Cioè, guardatelo, è identico. Solo che è verdino. Sì, è di questo verde particolare. E infatti, come dice anche sulla confezione, è glow in the dark. Quindi dopo lo vedremo illuminarsi al buio. Abbiamo quindi concluso la prima casetta. E adesso direi di aprire gli altri cartoncini. Ok, questa è la cucina. E in questo caso abbiamo trovato il frigo. Un po' sporco, devo dire. Mentre i nostri mucis sono questo adorabile cagnolino. Guardate. Come sapete io ho un debole per i cani. E poi questo gattino, anche questo molto tenero, che sembra tipo una palla di pelo. Solo che in questo caso è una palla morbidosa. Guardate quanto è tenero. E sembra anche un po' addormentato. Passiamo all'altro cartoncino. Allora ragazzi, abbiamo trovato il soggiorno. E guardate che carino. C'è il ferro da stiro con proprio il ferro per stirare. E' troppo tenero. Guardate. E' bellissimo. Davvero questo è il mio preferito. Tra tutti gli arredamenti che ho trovato, è il mio preferito. Ok, abbiamo trovato un altro perri. Questa volta è arancione. E poi abbiamo trovato un'altra medusa, che in questo caso è viola. Passiamo a un altro cartoncino azzurro. Ok, abbiamo trovato la camera da letto con questo specchio molto carino, che come vedete fa un sacco di giri. Mettiamolo qui. E vediamo i mucis che abbiamo trovato. Come vedete abbiamo trovato un cavallo viola. E' molto molto carino. Guardatelo. E poi abbiamo trovato questo coniglietto. Come vedete di questo verde acqua. Anche lui è molto carino. Non avevamo mai trovato questi due personaggi. E sono molto felice perché adoro sia i cavalli che i coniglietti. Mettiamoli qui. Ok, per completare anche questa camera, questa casetta, prendiamo un'altra confezione, quindi un altro cartoncino rosa. Abbiamo trovato appunto il bagno con questo specchio molto molto carino, il lavandino dove potersi lavare i denti, lavare la faccia. Mettiamolo qui in modo da completare anche quest'altra casetta. Mentre i mucis che abbiamo trovato sono sempre questo uccellino particolare che sembra davvero una palla. Ed è carinissimo. E poi questa tigre bianca. Vadoo, io adoro le tigre bianche, le tigri delle nevi, perché sono bellissime davvero. Perciò ragazzi, queste sono appunto le due casette che abbiamo creato. Adesso ve le faccio vedere in questo modo. Aiuto, ce la posso fare. Eccole qui. Eccole qui. E ovviamente c'è anche l'altra. Davvero questi mucis sono tenerissimi e sono super morbidosi. No, è caduta la lampada! Ok, eccole qui. Di nuovo! Vabbè ragazzi, adesso prima di concludere direi di vedere i nostri mucis, quelli che appunto sono glow in the dark, al buio. Ok, questi sono i quattro mucis glow in the dark che ho trovato. E adesso direi di vederli al buio. Ok ragazzi, siete pronti? 3, 2, 1... Oddio ragazzi, come vedete appunto si illuminano al buio, sono glow in the dark. Ovviamente più li caricate più si vedranno, quindi io magari dopo li caricherò ancora di più. Però come vedete già così si illuminano abbastanza. Che carini che sono! Perciò ragazzi, che vi posso dire di questi mucis surprise? Sono molto carini, il mio preferito è sicuramente i perry che ho trovato perché sono adorabili. Anche il cagnolino mi è piaciuto molto, l'unicorno, in particolare quello bianco, però sono tutti tenerissimi. Quindi vi consiglio di prendere quattro cartoncini tutti diversi in modo tale da poter creare una casetta come queste qui, che sono carinissime. Bene, adesso passiamo ai saluti! Se questo vi è piaciuto vi ricordo di lasciare un like, di iscrivervi al mio canale e di passare anche dai miei profili Instagram, dei quali lascio nella descrizione il link. Vi ricordo anche di seguire la mia pagina di Facebook che si chiama GiuliaGuerra03, della quale lascio sempre nella descrizione il link. Bene, noi ci vediamo alla prossima. Ciao!